La comunicazione sui social è importante, i GBD crede in questo. Sono Daniele, ho 29 anni e insieme ad altri colleghi porteremo dei post, degli articoli brevi di facile comprensione per tutti gli utenti come medici, specialisti, biologi, nutrizionisti, infermieri che sono coinvolti nella cura e nella ricerca delle malattie infiammatorie e croniche intestinali. Scriveremo dei piccoli post di facile comprensione relativi a partire appunto da questo congresso relative alle buone pratiche cliniche basate sull'evidenza e anche dei highlights sulla ricerca italiana ed internazionale che possono essere uno spunto per approfondire e portare nella pratica di tutti i giorni le ultime novità emerse. Ci aspettiamo di poter contribuire in maniera pratica e efficace per tutta la comunità i GBD e quindi di poter coinvolgere sempre più colleghi e poter crescere insieme ed aiutare i pazienti.